salve siamo i ragazzi di tv giordani dell'itis giordani caserta in collaborazione con onda web tv e siamo qui con paolo migiano allora ha scritto l'ultimo libro che si chiama l'altro casalese domenico novillo il dovere della denuncia perché proprio l'altro casalese perché l'altro casalese tanto grazie al vostro laboratorio e a beatrice di onda web tv per avermi coinvolto in questa chiacchierata che la prima anzi non la seconda perché l'altra l'ho fatto con mattina 9 ma è una delle prime quindi la seconda chiacchierata che facciamo intorno a questo lì oggi quindi sono molto contento di stare con voi allora perché l'altro casalese noi casal di principe i casalesi li identifichiamo subito con il nome di un clan il clan dei casalesi un clan ormai sul quale si è detto tutto però si è detto molto si dice molto poco di quelli che sono gli altri casalesi cioè la maggioranza dei casalesi cioè il popolo delle persone che vive a casal di principe e casal di principe io la intendo come una dimensione molto più larga che va oltre il la cittadina di casal di principe è tutto l'agroversano è tutta la provincia di caserta e in qualche maniera è un po tutta l'italia e anche un po tutta l'europa perché purtroppo il clan dei casalesi che si è appropriato del nome di un popolo si è come dire allargato è andato oltre i confini di casal di principe è andato oltre i confini della provincia di caserta oltre i confini nazionali perché i casalesi quelli con la c minuscola hanno avuto grazie a un po di distrazione e disattenzione nostra delle istituzioni in generale in un tempo hanno avuto come dire gioco facile ad espandersi anche fino in romania e in altri paesi d'europa quindi l'altro casalese per parlare di un uomo che in qualche maniera vi rappresenta tutti i casalesi per bene ed è appunto domenico noviello che ha avuto il coraggio di fare il casalese per bene fino all'ultimo suo momento di vita dato che lei è un criminologo ha evidenziato dei cambiamenti durante il corso del tempo nella criminologia nella criminologia o nell'evoluzione del crimine in campagna allora la camorra come dire è in continua evoluzione non siamo più diciamo così agli anni 70 80 la camorra di intanto la camorra in campagna non si parla di una struttura unica ma sono le camorre pensa che nella città nella provincia di napoli se ne contano almeno 90 gruppi che nel corso del tempo hanno avuto strategie alleanze gruppi che si sono alleati oggi e domani sono sono ostili tra tra loro c'è un'evoluzione come dire che nel tempo ha avuto molti 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 sono 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 diventati collaboratori di giustizia attenzione a questo è un'evoluzione si definisce smantellata o perlomeno non è più quella che abbiamo visto negli anni appunto nel 2008 2009 adesso diciamo che la maggior parte sono stati grazie appunto quel modello caserta sono stati quasi tutti imprigionati molti sono sono diventati collaboratori di giustizia attenzione diventano collaboratori di giustizia sempre dopo mai mai prima e soprattutto dobbiamo mettere in evidenza che non c'è mai un politico che diventa collaboratore non c'è mai un imprenditore che svela le cose ma sono sempre i camorristi che una volta rinchiusi in una cella 4x4 gli manca l'aria come promuoverà questo libro ma io intanto questo libro lo promuovo insieme ai figli di mimmo noviello che sono quattro ragazzi straordinari lo incomincieremo a fare già nell'anniversario perché l'anniversario di mimmo noviello è il 16 di maggio quindi giovedì prossimo giovedì mattina saremo con la federazione anti racket a commemorare mimmo noviello nel luogo dove lo hanno massacrato nel pomeriggio saremo nella redazione di informare un giornale di frontiera sempre a castello colturno il 17 pomeriggio invece saremo in questa libreria con i magistrati che hanno seguito la vicenda giudiziaria di mimmo noviello con i figli e con i giornalisti che hanno seguito questa storia